L'uguaglianza possibile, le banche nei comuni del futuro, è il tema di un momento di confronto voluto dai sindacati confederali sul ruolo delle banche in Abruzzo, ma soprattutto sui dati allarmanti che emergono sulla presenza di banche e sportelle in regione. In 12 anni da 700 filiali si è arrivati a 429 e si è accentuata la disuguaglianza tra costa e aree interne. Negli ultimi anni, soprattutto nelle aree interne, si assiste ad una desertificazione bancaria, supportata da un nuovo modello di banca online, che prevede una chiusura massiva di sportelle e uffici, che non sono ritenuti più interessanti e remunerativi. Ma così viene a mancare un punto di riferimento per le aziende e per i cittadini con difficoltà, pure di accesso al credito da parte delle imprese. Il sistema produttivo è in difficoltà, così il ricercatore Aldoronci nella sua analisi dei dati, che ha rilevato come in Abruzzo negli ultimi anni siano scesi gli abitanti con un decremento superiore alla media nazionale, quasi il doppio. I dati più segnali sono questi, che io ho voluto innanzitutto mettere in evidenza, che gli indici che riguardano il sistema economico abruzzese e che sono la demografia socio-economica, che sono la demografia, la dinamica delle imprese, l'esportazione, l'occupazione, il valore aggiunto, sono tutti indici che sono di gran lunga peggiori di quelli dei valori medi nazionali. Questo denota che sostanzialmente il sistema produttivo abruzzese si trova in uno stato di difficoltà, stato di difficoltà che sostanzialmente bisogna risolvere con due priorità, una è quella di aumentare la competitività delle imprese, in particolare delle piccole imprese, e l'altra è quella di elaborare un progetto di sviluppo socio-economico, armonico e che tenga conto delle peculiarità dei territori regionali. Per quanto riguarda il credito c'è da evidenziare che nel 2021 l'incremento del credito è stato molto basso, è stato molto modesto, a fronte dell'erogazione di 1 miliardo e 463 mila euro di prestiti garantiti dallo Stato che sostanzialmente sono andati a sostituire il credito ordinario, per cui questi famosi prestiti garantiti dallo Stato che dovevano essere aggiuntivi al sistema delle imprese e invece è stato sostitutivo. L'ultimo problema che evidenzio è la riduzione degli sportelli, riduzione degli sportelli che innanzitutto in Abruzzo è stata pesata, sono stati nel 2021 52 sportelli in meno. Segretario, dati allarmanti quelli che riguardano la presenza delle banche in Abruzzo, molti sportelli soprattutto nelle aree interne hanno chiuso negli ultimi anni, ovviamente difficoltà per i cittadini, ma questo poi si ripercuote anche un po' nel sistema produttivo, nelle imprese. Sì, abbiamo perso nell'ultimo decennio circa 270 sportelli bancari e questo ha portato a una situazione ancora più grave nelle zone montane e nelle zone interne dove c'era invece bisogno di una presenza costante del sistema bancario, proprio per ridare uno slancio a questi territori che sono già in forte spopolamento e dobbiamo cercare di mantenere i giovani nei nostri territori, le imprese nei nostri territori, quindi noi oggi chiediamo alla politica un impegno di fare un discorso comune proprio per cercare di ritornare a rendere attrattivi queste zone interne, zone montane che sono importanti per la regione Abruzzo e abbiamo le capacità per poterlo fare. Possiamo contare su ingenti risorse che arriveranno a breve dal discorso del PNRR Sisma, da Quell'Ordinario, dal CIS Abruzzo, dal CIS Sisma e queste ingenti risorse ci permetteranno di poter fare una programmazione proprio finalizzata al rilancio del territorio per evitare proprio le disuguaglianze che ci sono tra le zone montane e le zone costiere, ma ripeto, la cosa principale è mantenere le radici del territorio e questo lo possiamo fare creando un percorso lavorativo ai nostri giovani, costringendo le aziende a investire in questo territorio perché c'è una crescita sicura e lo dobbiamo fare tutti insieme, sindacati, forze sociali, forze politiche, forze imprenditoriali. Il problema riguarda le persone, riguarda le imprese, riguarda le amministrazioni locali, vorrei ricordare che i fondi che arriveranno con il piano di ripresa e resilienza, i fondi europei per l'80% dovranno essere gestiti dagli enti locali, allora il presidio sul territorio di sportelli bancari dove si trova una competenza, si trova una consulenza, si trova un sostegno professionale, è fondamentale. Cosa fare? Qui c'è il decisore pubblico che deve con determinazione porre al sistema finanziario il tema che la banca non può essere semplicemente più un'entità commerciale che piazza prodotti e quindi lo può fare online e così via. C'è un problema di presenza sul territorio e di far ritornare la funzione delle banche a funzione anche di servizio ai cittadini e al paese. Quali sono gli effetti di questa chiusura di banche e di sportelli soprattutto nelle aree interne in Abruzzo ma poi c'è anche a livello nazionale volendo ampliare un po' il respiro? Gli effetti si riverberano un pochino su diversi aspetti, non solo economici evidentemente ma anche sociali perché per quelli economici è facilmente comprensibile che c'è una maggiore difficoltà a raggiungere le filiali ad operare con esse. Le pensi solo ad una popolazione abruzzese che su scala nazionale sta riportando la denatalità anche a livello regionale quindi una popolazione che si sta invecchiando e una popolazione che ha maggiore difficoltà da un lato a spostarsi evidentemente data l'età ma una difficoltà sotto il profilo di alfabetizzazione digitale per cui la sostituzione della filiale fisica con la operatività su un terminale, su un telefonino evidentemente non è alla portata di tutti. Da un lato perché non tutti i comuni sono correttamente serviti da una rete wifi dall'altro perché la popolazione anziana difficilmente accede a questa alfabetizzazione digitale e poi c'è un aspetto sociale perché viene a mancare quel punto di incontro che tipicamente è una filiale, un ufficio postale, un bar, attività economiche legate comunque all'attività bancaria non ci sono più e quindi viene a mancare un confronto, una modalità di espressione con i coetanei. Questo è un aspetto che secondo me non andrebbe sottovalutato. I dati sono allarmanti perché attualmente in Abruzzo abbiamo una percentuale di chiusura delle banche di presenza delle banche sui comuni che è molto più bassa rispetto all'altro territorio nazionale. Più o meno siamo all'incirca una banca presente per circa un terzo dei comuni abruzzesi, quindi abbiamo circa 125 sportelli su 305 comuni e questa cosa è stata impicchiata, la chiusura degli sportelli, da circa 10 anni a questa parte. Calcolo che nel 2008 c'erano circa 180 sportelli, quindi insomma ne hanno chiusi parecchi. Questo non ci preoccupa perché accanto alla chiusura degli sportelli, quindi al di là della perdita dei posti di lavoro diretta dei dipendenti bancari, si viene a creare un problema con tutte quelle che sono le attività dei piccoli comuni, piccoli imprenditori o piccoli commercianti che con difficoltà poi riescono ad avere accesso ai servizi bancari. Quindi a cascata vanno a chiudere anche tutte queste attività e per le nostre zone interne insomma è un problema perché sono opportunità e posti di lavoro che si perdono e comunque diciamo giovani che non hanno più possibilità di stare sul territorio. Noi pensiamo di sì, c'è una relazione tra quanto accade nel mondo bancario e la desertificazione anche delle aziende. I dati che illustriamo oggi ci fanno capire anche questo. Se si vuole uno sviluppo nel territorio bisogna fare investimenti e per questa ragione noi pensiamo che bisogna avere un progetto per far rialzare proprio in queste zone, le zone montane, la testa e quindi poter rialzare anche l'economia e soprattutto eliminare le diseguaglianze che si stanno producendo. Voi vi rivolgete anche insomma alla platea dei sindaci attraverso poi l'Associazione Nazionale dei Comuni perché poi sono loro decisioni politici, sono loro che devono supportare anche questo grido di allarme che arriva dai sindacati? La preoccupazione è proprio questa, nel senso che man mano che le banche chiudono sportelli nei loro territori fa sì che i sindaci che vivono in solitudine questo aspetto si rivolgono direttamente le banche per lasciare un banco mattevoluto, per cercare di convincere la banca con progetti di tesoreria. Noi pensiamo che tutto ciò non funzioni, noi pensiamo che occorra un progetto collettivo per far sì che in un determinato territorio si possa guardare con attenzione quello che sta accadendo e fare un progetto per il futuro. Voi come sindacato più volte diciamo avete lanciato l'allarme, la chiusura degli sportelli delle banche soprattutto nelle aree interne rischia di creare disuguaglianze, anche qui di creare un abruzzo a due velocità tra la costa e le aree interne. Quali sono però le soluzioni che proponete alla luce di dati allarmanti perché negli ultimi anni soprattutto tante banche hanno lasciato il territorio? Le soluzioni sono che le banche ritornino e il territorio ritornino a fare, a svolgere pienamente la loro funzione di banca. Ci troviamo in un periodo complesso, con una crisi economica forte, le imprese hanno bisogno di banche che siano a loro vicine per quanto riguarda tutto l'accompagnamento dei processi relativi alla transizione ecologica e digitale che si deve portare avanti ed è importante che le banche siano vicine ai cittadini. Secondo noi un modello di banca che è soltanto una banca digitale con canali digitali non può funzionare. Su questo crediamo che tra l'altro anche le istituzioni debbano fare la loro parte attraverso l'attivazione del tavolo regionale sul credito e crediamo anche che un intervento importante possa essere fatto anche dalle finanziarie regionali e da Bruzzo Sviluppo. Quindi le istituzioni devono essere insieme alle banche un elemento di supporto per l'economia a partire dalle aree interne e dai territori che vanno sempre più spopolandosi. Questo momento di confronto vuole essere importante non solo per illustrare dati che purtroppo sono molto negativi per quanto riguarda la chiusura di Sportelli e di banche in Abruzzo ma anche per cercare soluzioni, per cercare un'interlocuzione importante con i sindaci ma non solo, anche a livello più ampio regionale. Beh, chiaramente l'obiettivo è questo perché bisogna rimettere al centro un tema, quello di questa desertificazione bancaria che per le aree interne ha significato un ulteriore spopolamento. Purtroppo i dati sono inclementi, negli ultimi dieci anni si sono persi 2700 posti diretti e circa 300 indiretti. È chiaro che questo sta passando in silenzio ma è una grossa azienda chiusa e per questa economia regionale causa un danno irreparabile. È chiaro che bisogna porre dei freni perché la tendenza è quella che continua la chiusura degli sportelli bancari, quindi l'attenzione delle istituzioni deve essere alta ma soprattutto quella della regione per fare in modo che in un periodo come questo dove l'accesso al credito, le opportunità economiche e anche il rilancio dell'economia passano attraverso sportelli e quindi è chiaro che bisogna fare tutti insieme un'azione sinergica per portare all'attenzione non solo quella regionale ma credo vada fatta anche una rete a livello più nazionale perché è un fenomeno che tocca un po' tutte le regioni d'Italia. Deve passare invece un nuovo messaggio, quello che l'Abruzzo è una terra competitiva anche perché al momento delle risorse del PNRR il problema della chiusura degli sportelli incide non poco anche sulla socialità. Per questo è importante coinvolgere pure i sindaci. Era presente per tutti il presidente di Anci Abruzzo, Gian Guido d'Alberto. Presidente, è opportuno che anche i sindaci insomma raccolgano questo grido di dolore e di allarme lanciato dai sindacati oggi. Purtroppo la presenza delle banche in Abruzzo, soprattutto nelle aree interne va sempre scemando. Quali possono essere le soluzioni? Comuni e sindacati sono i soggetti di prossimità che vivono in prima linea, in primissima linea le difficoltà del territorio anche sotto l'aspetto occupazionale. Ecco perché c'è bisogno di una linea strategica comune che parta dalle amministrazioni comunali, dai sindaci, dai territori ma che deve avere una risposta anche ad altri livelli istituzionali da parte della regione Abruzzo necessaria e dei nostri rappresentanti parlamentari e governativi a livello nazionale. Un'azione di sistema che faccia capire una cosa, tutto il sistema bancario e creditizio, che l'Abruzzo oggi è un'opportunità sia per il PNRR che per le risorse della ricostruzione. Quindi abbandonare il nostro territorio è un errore clamoroso, noi dobbiamo sostenere questa posizione con grande forza, con grande determinazione anche per arginare lo spopolamento delle aree interne che non possiamo assolutamente consentire come comuni.